Vedete la situazione del dente dell'arcata superiore dove a dispetto di papille che hanno un'altezza perfetta, anche quella distale all'impianto è ottima, però sono estremamente sottili e io per poter ottenere il successo, considerando che nello spostamento coronale posso anche migliorare la recessione sul centrale, la corona fruttura dell'allamento protesico dovrebbe essere a questo livello, circa a questo livello, quindi è chiaro che come c'è la corona, come c'è questa finta radice, vedete? E quindi è chiaro che mettendoli in a questo livello mi rimane un letto vascolare che è costituito al 99% da epitelio, quindi questo non potrebbe mai reggere i rapporti vascolari fra la papilla chirurgica e la papilla anatomica, quindi quello che faremo è fare una corona per l'impianto identica alla corona anatomica del centrale, quindi a livello del CEI del centrale si porterà un approvisorio, ok? Lasceremo un moncone assolutamente cilindrico, conico meglio ancora, cioè il più stretto possibile compatibilmente con la testa dell'impianto, possibilmente in zirconio che si vedrà come bianco e vedremo che tutta questa gengiva, essendo il provvisorio assolutamente corto, potrà andare a occupare lo spazio che ci sarà fra il moncone e i dei denti adiacenti andando a occupare quello che ora è spazio occupato dalla corona e dal moncone stesso. Poi vedremo le modifiche della gengiva e quando questa gengiva sarà completamente matura per poter affrontare la chirurgia, facciamo la chirurgia che è esattamente lo stesso tipo di intervento che avete visto ieri. Contemporaneamente abbiamo indicato sui canini di dover ricostruire l'aggiunzione smalto cemento, vedete come c'è un'abrasione, il canino deve essere più lungo del laterale, quindi noi dobbiamo andare a ricostruire il canino a una linea maggiore di quella del laterale, quindi circa questo livello, ricostruiremo la giunzione e poi il resto lo colmeremo con la chirurgia davanti. La stessa cosa, nel canino controlaterale il 90% è abrasione e poi c'è una piccola recessione che colmeremo.